Ho sempre promesso a me stessa che avrei aiutato Samuele a realizzare quante più cose possibili. Racconta così l'ultima iniziativa intrapresa da Giulia Iannuzzi, che con la solita tenagia e l'immenso amore che nutre per suo figlio, è riuscita a coronare un nuovo sogno, ossia far incontrare Samuele al noto e seguitissimo pilota di motocross freestyle Vanni Oddera, che ieri, mentre Samuele era ricoverato con mamma Giulia presso l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, è arrivato nel suo reparto, alla ricerca proprio del piccolo di Polla, che purtroppo è costretto spesso a raggiungere l'ospedale per curarsi. Un momento atteso e sperato che sembrava difficile da realizzarsi, nonostante la continua presenza del noto pilota presso l'ospedale, dove però, come raccontato da mamma Giulia, era sempre difficile far conciliare i tempi di ricovero di Samuele con la visita di Vanni Oddera. Pur di consentire dunque al suo piccolo di fare un giro in motocross, Giulia Iannuzzi ha scritto al pilota per chiedergli di raggiungere il reparto presso cui è ricoverato Samuele per una visita al suo piccolo. Alla richiesta della mamma si sono aggiunte anche le mail inviate dal personale medico ed infermieristico del Gaslini, volenterosi di regalare un momento importante a Samuele. Ed ecco che nella giornata di ieri il sogno si è realizzato. Il noto pilota, a bordo della sua moto da cross, infatti, ha raggiunto il reparto presso cui è ricoverato il piccolo pollese, appositamente per incontrare Samuele, chiamando il suo nome. Appena lo ha incontrato, Vanni Oddera si è appreso tra le braccia della mamma e il piccolo per portarlo con sé a fare due giri a bordo della moto nel corridoio dell'ospedale. Un momento di grande emozione per mamma Giulia, che ha sottolineato come, nonostante le difficoltà che si è costretti a vivere ogni giorno, per una mamma di un bambino speciale, vederlo ridere, divertirsi, fa sorridere e regala allegria anche a lei. Quello che mi piace mostrare di Samuele, racconta mamma Giulia Iannuzzi, è la sua forza e il suo sorriso. Vanni, continua raccontando la visita del campione di motocross, è una persona con un sorriso che va oltre le parole. Quando le sue mani hanno stretto Samuele, spiega con voce rotta dall'emozione, ho avvertito il suo amore ed il suo rispetto per i bambini speciali. Iniziative come queste, che porta avanti Vanni o Dera, sono fondamentali perché i bambini hanno bisogno di sorridere e far sì che le mamme possano ridere con loro. Ho infatti imparato con il tempo, conclude mamma Giulia, che il sorriso è una terapia fondamentale per far sì che ci si possa avvicinare alla guarigione o quantomeno si possa vivere il percorso ospedaliero con maggiore tranquillità.